La notizia dell'avvio dei lavori del primo nodo della pista ciclabile sembra aver provocato alcune note di dissenso tra quella parte della popolazione che avrebbe preferito invece vedere le strade asfaltate piuttosto che la realizzazione dell'infrastruttura. Proprio alla fine di fare chiarezza, il vice sindaco Angelo Cambiano tramite una nota ha deciso di intervenire in merito alla vicenda. Tanto per non dimenticare, dice Cambiano, voglio ricordare le condizioni delle strade cittadine all'atto del nostro insediamento la cui percorribilità costituiva un vero pericolo. I primi interventi, con somme che sono state racimolate, hanno riguardato infatti la chiusura delle buche più evidenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza del traffico cittadino, il rifacimento del manto stradale in diverse zone e altri interventi hanno riguardato le zone balneari. Inoltre, due accordi quadro stanno per partire e sono destinate le zone rurali. Solo per quantificare in cifre sono stati asfaltati già circa 20.000 metri quadri. Questa amministrazione però, continua il vice sindaco, oltre a volere il bene della cittadinanza e a spendersi giornalmente affinché arrivino quei risultati tanto auspicati, è determinata anche a cambiare il volto stesso della città di Licata. La realizzazione della rete ciclabile, infatti, che prevede due circuiti nell'ambito del territorio comunale, si colloca in tal senso nel più ampio progetto di rilancio della città, oltre che dal punto di vista culturale, anche e soprattutto turistico. La pista ciclabile, infatti, sarà integrata con la nuova segnaletica turistica che indicherà la posizione di monumenti, luoghi di attrazione e punti di interesse e sarà corredata dal servizio di bike sharing per il noleggio bici, tandem e quadricicli a pedale, perché non si può parlare di turismo se prima non se ne creano le condizioni. Desidero, infine, conclude il vice sindaco, invitare tutti coloro i quali hanno deciso di porsi in una posizione critica nell'operato di questa amministrazione, veicolando notizie che a volte non rispondono a realtà, a spendere piuttosto le proprie energie per essere propositivi e dare un contributo alla crescita della città. L'esperienza insegna che solo con la collaborazione di tutti e con un impegno sinergico si possono ottenere i risultati migliori e il palazzo di città è aperto a tutti ad ogni proposta che possa far uscire l'icata dall'isolamento e mi riferisco principalmente all'isolamento culturale nella più ampia accezione del termine.